Amici di Moto.it, ciao a tutti, siamo qua con un amico storico nostro, il team Rigo Racing. Ciao Marco! Ciao, buongiorno a tutti. Ciao, ciao. Ma oggi non vi parliamo di moto, vieni pure Marco, perché oggi siamo in collaborazione qua con Mercedes-Benz per parlare di prodotti molto importanti per noi motociclisti. Lo si vede già dalla moto? Sì, in pratica abbiamo allestito un must di Mercedes-Benz, il Vito, per portare la moto, perché è un mezzo adatto per il motosport e soprattutto per i privati, per l'appassionato che vuole unire l'utilizzo del mezzo standard che magari usa nel quotidiano per lavoro e nel weekend dice ok, carico moto e tutto quello che mi serve e vado a girare o a fare una gara. Vediamo in questo caso come l'hai allestito, come l'hai preparato con la tua moto, è la moto da gara? Sì, abbiamo messo sulla nostra moto da gara per vestire al meglio il nostro allestimento, ma al di là di quello volevamo farvi vedere che cosa avevamo fatto. Prima cosa, hai fatto modifiche importanti o sono modifiche che si fanno facilmente su un veicolo polivalente come il Vito? No, sono modifiche molto facili, easy, plug and play, nel senso che uno volendo poi se qualcosa gli desse fastidio dei supporti che abbiamo realizzato può rimuoverlo con grandissima facilità e nel dettaglio abbiamo fatto... Infatti, vediamo un po' il dettaglio perché lo vedo già, adesso dico anche a Riccardo dove inquadrare, scendiamo davanti alla ruota, vedi questo fermo addirittura con il lucchetto per non... Sì, sì, allora abbiamo semplicemente fatto una barra di acciaio inox, saldature a TIG, quindi anche belle dal punto di vista estetico e abbiamo fatto in modo che la ruota avesse un suo posizionamento e anche una sua sicurezza perché la moto chiaramente costa parecchi soldi e l'utente ha piacere magari quando, per dire, si ferma per andare a mangiare al ristorante durante il tragitto o altre cose che la moto sia sicura, cioè se anche gli aprono il furgone non riescono a tirarla giù nell'immediato. Sì, diciamo già che aprire un vito, ragazzi, non è mica una cosa facile, sono furgoni moderni, non è la TIA 500 anni 70 che scardini col cacciavite, è una sicurezza in più quando hai moto così costose perché qua si parla di una moto ufficiale che dà tantissimi soldi. Certo, quindi è una sicurezza in più. Poi abbiamo fatto un supportino semplicemente basico con una cinghia che si attacca sempre al supporto dove c'è la ruota davanti per tenere il cavalletto che è essenziale quando tiri giù la moto per poter sollevare le ruote da terra, cambiare magari le ruote se ne hai bisogno e cose del genere. Sul fondo, in avanti... Però magari veniamo, Marco, veniamo dietro che si vede il volume nel complesso del vito. Qua c'è un'inquadratura che vi fa capire anche proprio la volumetria. Guardate lo spazio che c'è in alto, vi parlo da indurista, quindi abituato a caricarle. C'è molto spazio sopra le manopole, ovviamente qui la moto è schiacciata dalle cinghie, però è facile caricarla. E poi ci sono gli spazi, vedete, tutte le pareti sono forate per poter predisporre barre dove ancorare le ruote. C'è la ruota anteriore a destra, ha messo Marco, borsone tannica legata, altra ruota, vedete, non si muove. Quindi c'è un allestimento fatto bene ma anche molto semplice da fare per tutti con addirittura una cassetta degli attrezzi professionale. Qua parliamo di un team del Mondiale, ragazzi, con Rigo Racing, però in un vito, senza prendere furgoni enormi. La cassettiera l'abbiamo pensata perché può contenere diciamo al suo interno sia l'attrezzatura che ti serve per fare la manutenzione sul campo gara che anche i ricambi che ti vuoi portare dietro. Quindi con un box solo su rotelle, quindi anche facile poi da scaricare, caricare quando devi usare il mezzo per il quotidiano e tiene dentro tutto quanto. Poi abbiamo fatto anche un supporto qua nella portiera posteriore per la scaletta, per la scaletta, scusate, per la rampa che serve per caricare la moto. Quindi un suo supportino basico, un rastecchino per metterla e toglierla, si mette dietro, si carica la moto, si finisce, si riposiziona sulla portiera e non porta via nessuno spazio. Adesso veniamo con Riccardo, facciamo vedere anche come è fatto fuori il vito, se no l'abbiamo visto solo dentro. Siamo con Marco e Andrea Rigo del team Rigo Racing. Ecco, vedete, è un veicolo molto compatto, molto veloce anche perché lo sappiamo, si guida come un'automobile. Ah sì, sì, nella versione con più cavalli ne fa 190 se non dico una stupidata. Vai piano Marco che non sei mica al mondiale. Eccolo qua, vediamo anche il davanti. Ragazzi, direi che è tutto da Mercedes-Benz. È bello vedere i veicoli commerciali qui perché sono dei partner fondamentali per noi appassionati di enduro, motocross, moto da pista, ma anche per i viaggi in moto quando vuoi portarti dietro la moto. Assolutamente. Grazie a tutti per l'attenzione. Ciao ciao. Ciao.